Paura, crolli e feriti. Non c'è tregua per le popolazioni di Marche, Umbria e Lazio, risvegliate ieri mattina da una scossa di magnitudo 6.5, la più forte registrata dal 1980. A tremare alle 7.41 anche la provincia di Pesero Urbino, che non è rimasta in colume da sisma. La più colpita è stata Pergola, dove alcune case sono state dichiarate inalgibili e fatte sgomberare. A Fano invece sono state transennate tre chiese antiche della città, la Basilica di San Paterniano, la Chiesa Santa Maria Nuova che ha riportato la caduta di Calcinacci e quella della Madonna del Ponte all'ingresso sud della città, dove si è aperta una crepa sul campanile. Stessa sorte per le scuole, Palazzo Baccarini, le biblioteche, Casa Cecchi, Casa Archilei e il Teatro della Fortuna chiusi in via precauzionale. Oggi dunque è stata una giornata di sopralluoghi negli edifici pubblici e privati. Sì, abbiamo fatto anche questa volta nove squadre, abbiamo dato priorità ai cimiteri, visto che la commemorazione dei defunti è in corso praticamente, alle scuole e poi comunque sia agli edifici pubblici in generale, quindi biblioteche eccetera. Ovviamente la cosa che ci preoccupava di più è la sede del comunale, per cui le verifiche più dettagliate sono state fatte e ci preoccupa un po' anche Santa Maria Nuova, che credo sia l'unica chiesa che rimarrà chiusa anche i prossimi giorni, mentre la chiesa di Madonna del Ponte, con annesso ovviamente il campanile, che fra l'altro è l'unica chiesa di proprietà comunale, quella è stata verificata sia ieri mattina con i vigili del fuoco e con i tecnici del comune e abbiamo rilevato che comunque i lavori che sono stati fatti negli anni, perché è un campanile 400, ma un campanile rimesso a posto anche perché aveva avuto delle lesioni in passato e ha un'anima, tra virgolette, se mi si permette il termine, di cemento armato, quindi sicura. Ieri sera sono intervenuti con i mezzi vigili del fuoco insieme ovviamente ai nostri tecnici per rimuovere quelle parti che potevano essere o dare dubbio di pericolo, di caduta sulla strada e sulla chiesa addirittura. Quindi la chiesa già ieri pomeriggio era aperta e non ha avuto problemi come San Paterniano che credo abbia fatto le funzioni del pomeriggio tranquillamente. A seguito di segnalazioni pervenute dai vigili del fuoco che da ieri hanno raddoppiato i turni, il sindaco Seri ha emesso un'ordinanza in cui dispone l'evacuazione del reparto di Otorino dell'ospedale Santa Croce in attesa di ulteriori verifiche strutturali da parte di tecnici dell'azienda ospedaliera Marche Nord nonché la chiusura della chiesa di San Cesario e dell'agenzia numero 2 della Carifano S.p.A. in via Cavour. Questo fino a quando le autorità religiose e l'istituto di credito non ripristineranno le condizioni di sicurezza. Al Teatro della Fortuna invece non sono stati riscontrati problemi mentre il municipio che era stato chiuso per accertamenti riaprirà mercoledì. Al momento no, stanno proseguendo le verifiche e i controlli, fortunatamente con questo periodo in cui le scuole sono chiuse lo possiamo fare con più serenità ma a tutt'oggi non si è riscontrato nessun problema come del resto in quasi tutta la città. Quindi invito a tutti a rimanere sereni e tranquilli e le scuole riprenderanno regolarmente con l'inizio previsto per giovedì. Le attività didattiche potranno riprendere regolarmente come da calendario anche a Senigallia. Nuovi sopralluoghi invece sono stati eseguiti da parte della provincia di Pesero Urbino su scuole superiori e strade del territorio provinciale dopo un incontro del direttore generale Marco Domenicucci con i responsabili e i tecnici dei settori edilizia scolastica e viabilità. Quanto alle strade, compresi i ponti, per tutta la giornata è continuato il monitoraggio, in particolare nelle zone montane dove può essere più frequente il pericolo di caduta massi. Nelle scuole invece i controlli non hanno fatto registrare particolari criticità. All'ITIS Mattei di Urbino a causa del distacco di parti di Intonaco sono stati chiuse quattro aule che verranno sistemate già da mercoledì mattina. Nella stessa giornata, prima dell'inizio delle lezioni, verranno controllate l'istituto Montefeltro di Sasso Corvaro e l'agrario Cecchi di Pesero. Grazie a tutti.